Musica Amici giallorossi di tutto il mondo e l'universo, buongiorno, un calcio a tutti. Allora, Roma-Bologna il giorno dopo, ovviamente è pure peggio, però, come dicevo ieri, l'importante è che sia stata presa la decisione di allontanare Juric perché veramente ci avrebbe portato al baratro. La colpa ovviamente non è solo la sua, lo chiarisco subito, la colpa è di tutti, quando le cose vanno male il pesce puzza sempre dalla testa, ma andiamo per ordine e cerchiamo di analizzare quello che succederà in questa sosta che sarà lunga, ma la Roma dovrà fare presto per permettere al nuovo allenatore di cominciare a conoscere la squadra, quel poco che resterà a Trigoria, anche se molti non saranno convocati, però ne resteranno comunque pochi e dovrà cercare da subito di far cambiare rotta mentalità e umore a questa squadra che ieri ci ha offerto un altro disastro, io l'ho chiamato sprofondo giallorosso perché ieri questo è stato. Ma dicevo andiamo per ordine, io vi ricordo iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un sacco di like, mi raccomando, commentate e ditemi la vostra e condividete con gli amici, così più siamo e meglio è. Vi ricordo che potete sostenermi abbonandovi al canale, costa poco che ce l'ho, per voi in esclusiva lo schifo che ho visto ieri all'Olimpico e tutto l'altro schifo che abbiamo visto nelle altre partite, però in qualità 4K e comunque sia, non è solo azioni di gioco, è anche il nostro vissuto, il fatto di andare verso lo stadio speranze, illusioni e arrabbiature, insomma, durante la gara, quindi è molto molto bello e vi sembrerà di stare all'Olimpico con noi, quindi sicuramente una bella cosa che avrete in cambio al vostro sostegno al canale. Vi ricordo anche il canale WhatsApp dove parliamo del Fantamax, lo sapete, siamo 61 squadre, almeno lì ci stiamo divertendo, poi sondaggi, video live dallo stadio, come è accaduto ieri, che è iscritto al canale WhatsApp, quindi mi raccomando, iscrivetevi e non perdete questa occasione di poter ricevere in anteprima tante news dal mondo Roma. Allora, dicevamo, arriviamo a noi, in questo buongiorno in calcio cercheremo di mantenere, come dire, la serenità, se così si può chiamare, perché è logico che oggi il tifoso romanista, oltre a essere perculato, perché il calcio è anche questo, molti tifosi di altre squadre mettono i sorrisi addirittura sui post da Roma, appunto sul canale WhatsApp e su altri social, oltre a essere perculato, logicamente amareggiato, non si sarebbe aspettato neanche un tifoso giallorosso, quello che sta accadendo oggi all'11 novembre, se non ricordo male, siamo arrivati, nessuno si sarebbe mai aspettato di dover vivere un momento del genere. Dalle sonero di Murigno, in dieci mesi sono stati cambiati tre allenatori, dopo Murigno De Rossi, poi Juric, incomprensibile scelta, infatti ha portato i risultati che abbiamo visto, e ora è il terzo che ci dicono essere in polmancini, anche se altre fonti ci rivelano che i Fritkin, consigliati dalle solite loro mille agenzie immobiliari che gli consigliano sono tornati da via a nuovi giocatori, i Fritkin sono orientati verso l'allenatore straniero, quindi ad oggi quello che sono rimasti in Lizza sono, se non sbaglio, Potter e Garzia, poi vediamo se c'è anche Terzic, perché Mancini a livello di italiani è quello che ha dato la disponibilità, seppur c'è tutta la storia ex-laziale, l'ambiente logicamente è diviso su questo argomento e ancora non abbiamo sentito quelle che sono le eventuali reazioni del mondo Lazio, perché anche quelle mi interessano, perché io non credo che la prenderanno bene, anche loro. Quindi preferiscono, dicevo i Fritkin, un profilo straniero, ma ripeto, queste sono voci, ad oggi molti esperti dicono che Mancini abbia aperto alla Roma con un minimo biennale da 6 milioni e mezzo, quindi un contratto importantissimo, importantissimo significa altri 13-14 milioni, tra bonus, IVA, IRP, FINA, ILA, il cacchietto che se li frega, da sommare ai famosi 9-10 milioni di Daniele De Rossi e il non mi ricordo male, uno e mezzo, non mi ricordo a Iuric quanto gli hanno dato, quindi la Roma si è praticamente magnata tutto il lavoro di risparmio che aveva fatto con questa campagna acquisti, mollare determinati giocatori come Lukaku, come Llorente, come Renato Sanchez, giocatori che pesavano come Macigni sul bilancio della Roma a livello di ingaggio e forse l'unico Lukaku era quello che insomma l'aveva giustificato visti i suoi 21 gol in stagione, perché in campionato ne aveva fatti solo 13 purtroppo, perché insomma anche l'anno scorso la Roma fino a gennaio ha vissuto momenti veramente bui, quindi tutto ciò di buono che è stato fatto nell'estate, gli acquisti che ci hanno dato entusiasmo che la Roma potesse finalmente iniziare un processo di crescita sportiva, come aveva detto De Rossi non dovevamo aspettarci subito di lottare allo Scudetto, ma aveva detto che era stato fatto un buon lavoro per tracciare il solco, per la strada futura verso la lotta ai piani alti. Ovviamente tutto questo lavoro è stato vanificato quando, se lo sappiamo bene, ci ritorniamo, quando è stato deciso di allontanare Daniele De Rossi per motivi più personali che tecnici, quindi questa decisione che ha spiazzato De Rossi, ha spiazzato l'ambiente e ha spiazzato proprio il mondo del calcio, perché in quel momento, a settembre, ma chi ce può stare libero? Chi ce può stare libero? Ci possono stare dei grandi allenatori, quelli che hanno deciso di prendersi un anno di pausa e mi viene in mente appunto Max Allegri, oppure all'epoca Klopp, che poi è stato ingaggiato dalla Red Bull, per fare tutto un altro tipo di mestiere, se non ricordo male. Forse all'epoca c'era pure Tuchel, poi Tuchel non so che strada ha preso, insomma io parlo di allenatori che hanno gestito grandi panchine, grandi talenti e che hanno anche avuto successi. Insomma, il curriculum anche di Max Allegri parla chiaro, anche se fino adesso solo in Italia ha dimostrato di vincere. Roberto Mancini è una certezza anche a livello internazionale, perché ha vinto al City, ha vinto in Nazionale, ha vinto all'Inter. Ora l'ultima esperienza in Arabia è andata male, ma perché logicamente Roberto Mancini ha preso una decisione più che altra economica, no? Quella della serie, o sai che c'è il sistema, almeno dieci generazioni delle mie con questo contratto, quindi è stata prettamente economica e decuriosità forse verso questo mondo, ha voluto far precursore perché pensava che l'Arabia Saudita magari poteva essere in domani nel futuro e lui poteva essere quello che lo raccontava, come era nato, ma in realtà l'abbiamo detto più volte. In certi posti certe cose non cambiano, non c'è la cultura, non c'è l'entusiasmo, non cambiano per come è fatta la gente. In Cina, appunto, in Arabia, sono state tutte bolle di sapone e sta a scoppiare pure questa da Arabia, perché al di là della disponibilità economica poi serve la competizione, serve l'attrattiva a livello di business per quanto riguarda le televisioni, le federazioni, eccetera, eccetera. Quindi insomma un progetto molto ambizioso che faceva acqua da tutte le parti dall'inizio, però Mancini giustamente ha detto male che va, pia una barca dei sordi e poi vediamo. Quindi Mancini sembra essere, ripeto, in pole, anche se i Fritkin vorrebbero prendere un allenatore straniero. Secondo me questo sarebbe un errore. Lampard sembra che l'abbiamo scampato, perché Lampard dovrebbe andare proprio al commentary da quello che ho letto, ma scusatemi se sto andando proprio a braccio stamattina perché ho tutto in mente, non voglio prendere troppe informazioni. Rimane Tersic, rimane forse anche Potter e c'è questo rumor di Garcia, che io spero che non sia vero, perché credo che anche Garcia dopo l'esperienza araba e l'esperienza emotivamente probante di Napoli, io non credo che sia in grado di venire qua e tira su e rimette dritta a barca. L'ha dimostrato anche nella sua esperienza romana, insomma, non c'è riuscito. Abbiamo dovuto chiamare Spalletti, lo ricordavo nel momento di difficoltà, anche seppure lì c'era stata qualche crepa, coppa all'otta all'epoca, se non ricordo male, anche perché sono passati quasi dieci anni, quindi insomma perdonatemi se non mi ricordo alla perfezione tutto, quindi io di questi non sono d'accordo. I profili secondo me che vanno ingaggiati sono uno tra Mancini e Max Allegri. Possono non piacere, non sono allenatori spettacolari, ma sono allenatori che hanno l'esperienza giusta per poter cambiare direzione, poter far cambiare direzione a questa squadra, a questi giocatori, ridargli qualcosa, quello scatto nella mente che li possa portare poi piano piano a riconquistare anche il pubblico. Noi lo sappiamo, ieri anche l'Olimpico pieno, però la gente stufa di vedere gente che cammina superata da qualsiasi tipo di giocatore, di qualsiasi tipo di qualità tecnica, non è possibile, non si può vedere uno spettacolo così e la gente dimostra il suo dissenso svuotando lo stadio. Ieri la Curva Sud dal 46esimo, dal fischio d'inizio del secondo tempo, ha cominciato a uscire, a togliere gli striscioni dei gruppi, del gruppo Quadraro, dei Boys, piuttosto che il gruppo Roma sotto, Giovinezza, non c'era più uno striscione. Sono stati talmente poi rapidi che noi ce ne siamo accorti, ovviamente guardiamo il campo e ce ne siamo accorti poi all'improvviso che non c'era più uno striscione. Era rimasto solo quello di Vecchio Ultras, se non sbaglio che è il gruppo più vicino alla Montemario, nella curvetta laterale sud, perché sapete che la Curva Sud c'è solo il distinto verso Tevere che è distinto separato, mentre l'altro distinto è comunque Curva Sud ma laterale e va verso la Montemario. Quindi la reazione del pubblico logicamente non poteva essere positiva, qualcuno si è trasferito anche a Tricoria, dei gruppi organizzati, una cinquantina di persone ci hanno riferito, si sono trasferite lì e hanno lasciato degli striscioni molto eloquenti, ancora più eloquenti di quelli che sono riusciti ad entrare allo stadio, perché lo sapete allo stadio c'è un bel prefiltraggio quindi non riescono a passare i messaggi duri che poi la tifoseria ha voluto riservare a giocatori e società che sicuramente non sono all'altezza. I giocatori sono i primi responsabili senza ombre di dubbio perché in campo ce vanno loro. Per anni ho dovuto subire la favoletta anche prima che mi mettessi a fare questa avventura su YouTube per dire la mia, perché volevo uno spazio per dire la mia e confrontarmi anche con gli altri per capire le altre persone come la vedono. Poi è ovvio che ci sarà qualcuno anche sotto questo video che non sarà d'accordo con me con quello che sto dicendo, però questo fa parte del confronto e credo che sia giusto che ognuno abbia la sua opinione. Poi ci sono cose che sono inconfutabili e incontestabili come quelle che determinati giocatori hanno fatto il loro tempo a Roma, a giugno dovranno prendere le valigie anche giocatori importanti che hanno indossato la fascia di capitano in questi anni, dovranno fare le valigie e andare a trovare, cercare fortuna altrove, finire la carriera altrove perché non sono più in grado di poter dare il proprio contributo in questa piazza perché sono giocatori che non hanno carattere, questa è la verità, nessuno si offrenda. Non hanno carattere, tecnicamente sono anche validi ma sono mediocri nella testa nel senso che non rischiano la giocata perché hanno paura di sbagliarla e puntualmente la sbagliano comunque lo stesso perché non sfruttando la loro abilità e cercando di fare la cosa semplice alla fine sbagliano. Ieri ho visto tanti errori, appoggi sbagliati, ho visto arriva sempre secondi sulle palle, hanno fatto sembrare il Bologna quello dell'anno scorso, poi l'avete visto ieri la Roma seppur disastrosa è riuscita a far Ducor Bologna, quindi il Bologna non è la squadra dell'anno scorso bella, veloce, che insomma tanto ha fatto parlare anche in Europa, tanto è vero che poi la sua stagione gli ha permesso di arrivare in Champions League. Quindi la Roma significa che ieri ha fatto proprio 0-0-0 Carbonella. Dobbic continua ad essere servito in una maniera che non può essere utile alla causa, non è un giocatore che sa far salire la squadra mettendosi davanti al difensore, anzi più volte, ma io questo lo dico dall'inizio, più volte viene anticipato dal difensore perché proprio non ce l'ha e come se lo fissate allo stadio, chi va allo stadio, sembra proprio che sta a dormire, sembra perché non ce l'ha questa cosa e continuano a cercare questo tipo di gioco. Lui ama la palla in profondità oppure ama essere servito dalle fasce perché poi ha i tempi giusti per intervenire e comunque sa buttare la palla in rete. Quindi è un giocatore che va sfruttato per le caratteristiche che ha, non gli se può chiedere, lancio lunga, devo stoppare a depetto, trattenere la palla, non lo sa fare, seppur è in armadio, qualsiasi difensore ha avuto la meglio su di lui in questo inizio stagione. Di qualsiasi squadra, straniera, italiana, piccola, grande, media, non ha vinto più di due duelli a partita e comunque viene sempre e continuamente anticipato e non è possibile che tutti i difensori che incontriamo sono più in forma di lui. Quindi è proprio una questione caratteristica e non capire questo voglio di perseverare man e male. Ieri il giocatore, l'unico che ha dato, l'ho detto anche ieri sera, l'unico che ha dato l'impressione di essere un giocatore che ancora c'è stacco alla testa è che c'ha qualità e sul quale dobbiamo costruire la Roma del futuro perché ormai sta stagione è bella cannata, si può drizzare cercando di non fare figuracce ma più di questo io non penso che si possa fare, non credo neanche alla qualificazione UEFA a mio modo di vedere. Forse in percorso UEFA si può giustare, forse quello sì ma in campionato non credo che si possa fare granché, ahimè. Dicevo l'unico giocatore su cui costruire è proprio Conè perché è un giocatore che dimostra, c'ha alcune lacune ma diciamo amplificate anche dal contorno che si trova, no? Perché c'ha giocatori che non gli danno assolutamente una mano che... so scarsi, semplicemente questo, però Conè è un punto dal quale ripartire sicuramente anche svilare che in questo momento era prevedibile che arrivasse, è un momento dove anche lui non è più decisivo, no? Perché non è che te può far partite da 7, da 8, salvare 18 gol come quelli con l'Inter per tutta la vita. Capita pure a svilare il momento in cui non è in palla, è giù de morale, è giù de condizione. È umano anche svilare perché inizia a vedere anche attacchi a svilare ma insomma tra i colpevoli sicuramente il meno colpevole è svilare, è uno di quelli che ha alzato bandiera bianca all'ultimo proprio in questa situazione. E poi c'è la nota positiva del Ciarawi che nonostante i mille problemi e l'età che ormai avanza perché ne ha 32 e del 92, Elcia è comunque un giocatore che la qualità ce l'ha nel piede e ce l'ha nella testa, ovviamente però anche lui non è che può vincere le partite da solo. Poi ci sono i ragazzi, ci sono Pisilli, Baldanzi, gente che si impegna ma che deve essere messa in una posizione nella quale può rendere e può dare il suo contributo in maniera importante. Esempio Lampante e Pisilli, la posizione delle ultime partite, insomma abbiamo visto il ragazzo che è in difficoltà perché c'è una posizione, ogni giocatore ha un punto del campo dove rende meglio, non c'è niente da fare e lì sta l'allenatore capirlo. Quindi adesso per chiudere perché mi sono dilungato troppo, la mia speranza è che il profilo che venga scelto stavolta sia di livello, non se faccia l'errore che è stato fatto con Juric e che già avevo commentato io personalmente all'esonero De De Rossi, se viene esonerato De Rossi deve essere sostituito, cioè deve essere una motivazione di livello. Stavolta non è che l'esonero Juric deve seguire una nomina di livello ma lo richiede la situazione della Roma, cioè non c'è altro modo per uscire da questa crisi nera e profonda nella quale i Fritkini con la loro arroganza e incompetenza ci hanno catapultato, ma serve proprio uno di carattere, uno che sa gestire uno spogliatoio, uno che soprattutto nello spogliatoio venga visto come superiore, perché il problema ingaggi di questi giocatorini è fondamentale per questa cosa. I va a fa le mani addosso, sono cose impensabili ai tempi di Boscov, di Lidolm, di questi allenatori qua. Quindi adesso bisogna prendere una figura che quando vi allasse sa che questo guadagna 6-7 milioni e Mancini ha vinto tutto, ma sto zitto perché questo mi crepa, perché io in confronto a lui ho vinto solo una conferenza, cioè questo deve essere il discorso. È ovvio se tu pigi Giampaolo, Iuric, Pinicola, con tutto il rispetto per gli allenatori, una squadra di gente che guadagna 5-6 milioni d'euro, ma quelli quando gli danno retta? Ma è normale, psicologicamente è normale, è normale. È come se io devo fare il principale, che cazzo ne so, a Gianluca Vacchi, ma quando mi sta a sentire quello? Quello c'ha 800 miliardi, io c'ho 1000 lire, ma non mi ascolterà mai, non mi darà mai retta. Questa non è una cosa da sottovalutare. Serve rispetto, ma sappiamo benissimo che poi c'è la condizione psicologica che fa la differenza, quindi deve arrivare una persona che è superiore a questi quattro scappati di casa che c'è in squadra, che però guadagnano tanto e che li possa mettere sul chi va là e di cacchio, questo è più importante di me, faccio pippa, perché c'ha ragione, perché lui ha vinto, io non ho vinto una Mazda. Va bene ragazzi, io vi auguro un buon inizio settimana, un buon lunedì, questi saranno giorni ovviamente di sosta in cui principalmente ci occuperemo del nuovo allenatore della Roma. Vediamo quando arriverà la notizia, adesso è quasi mezzogiorno, quindi ancora non abbiamo news, molto probabilmente le avremo o in serata o domani in mattinata, o quantomeno io mi auguro che si muova qualcosa, poi ci sono anche indiscrezioni che dicono che i Fritkin sono alla dispoli, avranno affittato il lito, che ne so, questi sostrani vanno a armare a novembre, comunque ci dicono che sono alla dispoli, vediamo se è vero, ma vediamo soprattutto se fanno qualcosa stavolta, almeno sulla carta dei utili per la nostra Roma. Ecco, Mancini o Allegri sarebbero due profili che mi farebbero stare, quanto meno all'inizio personalmente un po' più tranquillo, perché sono allenatori ed è in calibro abbastanza importante. Se dovesse arrivare la scommessa Terzic, sicuramente è un allenatore che ha dimostrato qualcosa, ma dovrebbe combattere con il problema della lingua, con il problema che non conosce l'ambiente, che non conosce la società, insomma, secondo me ci vorrebbe una vita, ci vorrebbe una vita e una vita non ci avevamo purtroppo, abbiamo poco tempo per riprendere la giusta via per cercare di salvare questa stagione. Buona giornata a tutti, un bacio dal vostro Max, ciao!